Don Tony è finita ditemi la verità adesso io ho due passioni le macchine e le donne domani parto per Milano perché qui non puoi fare quello che vuoi Pepe? cosa vuoi di più? ho aperto questo cazzo di teatro per te grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti